Ciao, io sono Kikko e sono mei Thomas, è un gruppo prodotto da Laura Pausini e Gigi D'Alessio. Il problema lo sai qua è che della Siae ci fa un culo così. Non a noi, a loro. Tu sei Gino Siae. Dai, cantiamo il pezzo. Cerca di non inquadrarlo. Il suo manager... Il suo manager ha rotto sui freddi. Do all the promises to people, babe, it's real. Got in a place where you win with an age at all times. Got the remaining just you know the meaning. You're fine. It's a rollercoaster and everybody wants to ride it. Oh, no. Oh, no. Not everybody wants to ride it. Not you. Oh, no. 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 I can't find it, I can't find it I'm the keeper of science, I'm the keeper of science And since I've seen it's better, it's better I'm missing the sun, it's more Everybody wants to lie to me I'm mind me, I'm mind me But he could be a sister, and he could be a sister I did I'm the keeper of science, I'm the keeper of science I'm the keeper of science, I'm the keeper of science Ciao e grazie ragazzi Per la pazienza E un grande ringraziamento al Chiosco Fritani Che è la figata della riviera di Giro E sono 16,70 euro per aver filmato E picco, un altro film di Giro 25.000 è una devua